Io, 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 Camilla Puginotta, c'ho una faccia da una speed date, una che si dà a migliare in un modo così minero, così banale, con rischio poi che non si va di là da un punto basso, ma non c'è nessuno che si va a sedere accanto a te. O no, a me si è pensato che io ci fossi pure andata a questo speed date, uno come Giuseppe, bello, altro che rile, si sarebbe ben sentito a un vicino o una con me, io lo so, ma c'è bene, a pochi, a pochi, sì, adesso ho un prodotto di inizia, ma accanto a me non ci sarebbe mai sentito ai papi, si è sentita accanto a Stefania, la mia migliore mita, i due si sono andati a testa, i due si sono scambiati il numero e il vecchio mattone l'ha subito invitata a cena per il giorno dopo, come Stefania è il bro, non è, è tutta inizia, lei è ripetuta e me è Sciaro, aveva l'appuntazione, c'è soli accompagnata, c'è uno strazzo, c'è premesso, premesso che io le cose a quattro le odio, eh sì, a quattro, perché Sciaro, mica voleva il pazzo in comodo, si è portato in una distrazione, bella distrazione che mi ha dato tutta la serata, questa è una serata con cosa fare, con la camionante nuova di dentro, questo c'è un imperno, una serata veramente interminabile, io finirò già, mi ripetuta la mia seratina sul visato, mi prendo la pipertina, e mi stringeva per me perché mi stringeva, cioè le sue braccia, stringeva la testa, insomma, e poi una serata anche un po' allucinante, veramente interminabile, la mia testa anche alla mia destra che lo sanno chieda a roe, a ridere un minuto alle battutine delle marescialle, e mi diceva, no, parisciallo, guardia il fatto che quella nostra aveva sinistra e diceva, o quella è! Ma se la vado, una invece intergrindabile, una invece pazzista, un giuro allucinante, come su. Mentre le sue riconoscrivano a ridere proprio, regherevamo l'occhio grande, non circolta una persona, regherevamo lo stato d'occhio in giulire, e dire o no, dimettiamo delle tridiane, e poi queste persone sono bastate di fronte a veri, c'era il maresciallo, il maresciallo propria, In tutto ciò scorderà il sulto rasullio, il frasico e i carini di un banale, le cazzia di Vittorio, il colante di Stefania che arrivava a vivere, mi battuta la maestrale, non è un patto. Un inferno, un inferno giocato, si alza e prende il bicchietto. Ma tu lo sai qualunque persone vorrebbero stare dal busto al vuoto? Ho guardato Stefania, ogni anni di lotta all'emancipazione di un'unile, l'ho guardato e ho detto, ecco, questa è la volta degli scatti, eravamo tutti in là, tutto il mondo femminile, e attendeva la risposta di Stefania, Matarami, la Rita Malario, i Falcini, la Furnero, Giovanna da Corano, tutte lì, alla stessa internazione di Stefania. Come sei scema! Le cose che si sono stupide e le cose continueranno a riprodursi, perché allo stesso tempo continueranno a esistere le raggine come Stefania. Brava!